Vorrei che i miei nipotini non venissero presi in giro a scuola perché magari dei compagnetti che vedevano striscia la notizia hanno trovato divertente quello sketch. Vabbè ma che dobbiamo dire allora? Noi italiani che ci dicono sempre pasta pizza mandolino, ci fanno così con la mano, dicono che siamo tutti mafiosi. Il fatto che dicano che gli italiani non se la prendono quando gli viene fatto una caricatura, diciamo, non è proprio così. Cerchiamo di migliorare le cose e non prenderci più in giro l'un l'altro. Ciao a tutti ragazzi, devo dire che è veramente difficile fare questo video ma ci proverò. Allora prima di iniziare con questo video voglio dirvi assolutamente di non mandare nessun messaggio di odio o minaccia a nessuna delle persone che citerò in questo video perché quello è un altro comportamento sbagliato e che non va assolutamente portato avanti. E non porta a nulla. Detto ciò volevo dire che il video che ho registrato due giorni fa l'ho registrato subito dopo aver letto la notizia e quindi quando ho letto quella notizia c'è stato veramente come sentivo il cuore palpitare fortissimo perché c'ero rimasto veramente male. Io ho fatto quel video in italiano per un motivo. Io amo l'Italia, amo il mio paese e mi fa stare male quando vedo situazioni del genere. Io quel video l'ho fatto in italiano, era indirizzato agli italiani, neanche a tutti gli italiani, a quegli italiani che magari non si rendono conto di determinate cose perché magari non hanno mai viaggiato o se hanno viaggiato hanno sempre viaggiato col prosciutto sopra gli occhi. Quindi io ho voluto fare quel video perché vivendo in Asia, io ho vissuto la maggior parte della mia vita in Asia o comunque ho vissuto anche a Los Angeles, ho vissuto in Thailand, ho vissuto in Cina, ho vissuto in Giappone per la maggior parte dei miei anni. Io devo dire che quel comportamento mi ha veramente allibito a dir poco. C'è una grande delusione perché ho capito che è un programma del 2014 ma a me sorprende come i media non si siano resi conto della gravità di quelle immagini e non si siano reso conto di quanto comunque mandare in onda una gag del genere nel 2021 non si può fare. C'è tanti che dicono, eh ma non sapete che cos'è la satira, in Italia siamo sempre perculati, nessuno dice niente. Allora innanzitutto vorrei fare un piccolo appunto perché io ricordo che qualche anno fa Tia Taylor aveva fatto un video in cui parlava degli stereotipi sugli italiani o comunque dei comportamenti che spesso tengono gli italiani in determinate situazioni. Io mi ricordo che gli era arrivata una shitstorm e minacce di morte a Google, quindi il fatto che dicano che gli italiani non se la prendono quando gli viene fatto una caricatura diciamo non è proprio così, come se saranno probabilmente tanti cinesi che non se la sono presa per questa gag e ce ne sono tanti che invece hanno sofferto e sono stati bullizzati da piccoli. Io vorrei condividere in questo video un video di Momoka che è tra l'altro ci sentiamo su Instagram già da molto prima di questo fatto e ha fatto un video che secondo me spiega meglio di chiunque altro quella che è la situazione. Da stamattina che sto leggendo commenti su Facebook, primo punto, quello proprio più gettonato di tutti è vabbè ma era solo uno sketch, era una battuta, anzi è proprio di niente, vi offendete per tutto. Probabilmente non essendo testimoni diretti di una certa realtà non si pensa effettivamente alle conseguenze. Personalmente posso dire che avere ragazzini per strada che mi urlano la viola al vapore, acqua felalelle, non è che sia così piacevole come non lo è neanche ricevere scherzi telefonici al ristorante con l'anonimo di persone che ci parlano con la L. E anche quando a scuola venivo presa in giro dai miei compagnetti che si tiravano gli occhi all'insù e mi dicevano ma come fai a vederci così? Mi facevano cinciuncianne, mi parlavano con la L. Non è che mi facesse sentire così a mio agio, anzi mi facevano vergognare delle mie origini, tanto che mi sono rifiutata per tanti anni di imparare il cinese. Mo, io lo so che queste prese in giro non sono state orchestrate da Gerry Scotti e Miscia Lunziger in persona, ma il fatto di trovare questi stereotipi reiterati in televisione, poi tra l'altro sulla TV generalista in un orario con tantissimi spettatori, non fa che alimentare e normalizzare queste prese in giro. E alcuni potranno anche dirmi ma fregatene delle prese in giro, tu sei più forte. Sì, ok, io alla soglia dei trent'anni posso dire che siano solamente degli idioti quelli che mi prendono in giro, ma vorrei che i miei nipotini non venissero presi in giro a scuola perché magari dei compagnetti che vedevano striscia la notizia hanno trovato divertente quello sketch. Un altro punto estremamente gettonato è Vabbè, ma che dobbiamo dire allora? Noi italiani che ci dicono sempre pasta pizza mandolino, ci fanno così con la mano, dicono che siamo tutti mafiosi. Prima di tutto, se a te non danno fastidio questi stereotipi, che te devo dire? Bravo, ma sappi che ci sono persone con una sensibilità diversa dalla tua. E soprattutto ti inviterei a riflettere sulle conseguenze che quegli stereotipi hanno sulla tua vita. Perché per te che sei cresciuto in Italia tra gli italiani vuol dire semplicemente vedere uno stereotipo in una serie TV o sui mimini. Ma probabilmente a un italiano nato e cresciuto all'estero, che effettivamente viene preso per il culo nella vita reale, che gli fanno sempre, che ne so, battutine sul fatto che è mafioso o sul modo di parlare, non è che vadano così tanto a genio. Questo video sta girando molto su Instagram, però secondo me è il caso di condividere anche quel video qui perché spero che qualcuno cambi idea. Poi so che non è facile far cambiare idea alle persone, specie se sei sempre cresciuti con una determinata mentalità, ma secondo me sarebbe il caso di riflettere perché le parole veramente e anche certe azioni e certi comportamenti possono fare veramente male. E soprattutto provate a mettervi nelle scarpe di chi si trova in minoranza. È importante ad usare le parole, è importante rendersi conto di quello che determinate parole possono andare a creare. E non è giusto dire da esterno, quella non è un'offesa, perché se tu non l'hai mai vissuta, io ho visto anche tra i commenti, tra l'altro ho messo tra i commenti un commento di un ragazzo che si chiama Honda, l'ho messo tra i principali, sotto di lui sono arrivate una marea di messaggi incredibili, cioè io ci sono rimasto veramente allibito a leggere alcune discussioni. Io ragazzi vorrei veramente che la gente riflettesse prima di scrivere determinate cose e provasse ad immaginarsi com'è vivere così. Il mio video scorso non era un attacco a Michelunzi e a Roger Scotti, ma ai media in Italia che ancora sono così indietro da pensare che questa cosa sia ok e tanti telespettatori che considerano quel comportamento ok. Cioè io capisco la satira, però devo dire che tutta questa storia mi ha fatto capire che forse il fatto che io vivo all'estero da così tanti anni ho difficoltà a volte, cioè penso magari alcune cose in modo molto diverso da varie persone che magari stanno in Italia. Io ragazzi sappiate che il mio non è un intento per insultare nessuno o altro, però bisogna stare attenti a tutto quello che posso dire. Un ultimo appunto che vorrei fare è sul discorso di Michelunzi, perché io non credo che sia razzista, penso veramente che abbia fatto tutto ciò in modo naif e mandare messaggi di morte a lei o a qualsiasi persona è sbagliato e non va fatto assolutamente. Tuttavia non mi sta neanche piacendo come stanno portando avanti questo discorso, si è scusata però ha ricevuto minacce di morte. Come ha ricevuto minacce di morte lei, ne ha ricevuto anche quel ragazzo che per primo ha segnalato questo comportamento che hanno tenuto questi TV host e tra l'altro anche Diet Prada, eppure io ho ricevuto un sacco di vocali con gente che mi minacciava, anche nei commenti li ho eliminati, quelli che mi dicevano di andare a morire, alcuni li ho eliminati, alcuni li ho pubblicati sulle mie storie del mio Instagram italiano, però ragazzi veramente, cioè tutte le parti hanno ricevuto hanno ricevuto un po' di shitstorm. Cerchiamo di imparare qualcosa da tutta questa questione, è una questione molto più grande di questa gag e io spero che questo lo riusciate a percepire da questo video, ecco questo è tutto quello che voglio dire. E il fatto che gli italiani vengano perculati all'estero e noi perculiamo i cinesi, cioè non è che il mondo deve andare avanti occhio per occhio, dente per dente, cerchiamo di migliorare le cose, non prenderci più in giro l'un l'altro, che così poi allora si può fare davvero satira secondo me, ma finché ci sono delle persone che vengono bullizzate per queste cose, non si può fare satira su determinati argomenti. Un discorso troppo lungo e troppo complicato, magari appena ho del tempo cercherò di fare un video, se ci riesco perché non so se continuerò a fare video, perché vedo che proprio ci rimango male quando vedo determinate questioni e non so se riesco a continuare, ecco. Vabbè, questo è un video che doveva essere molto più corto, ma spero che lo guarderete lo stesso. Ragazzi, io sono qui per cercare di un dialogo e cercare di migliorare le cose, in qualche modo, sbagliando, non lo so, però questo è quello che cerco di fare, io spero che questo vi arrivi. Se non ce l'ho fatta, perdonatemi, però questo è quello che vorrei dire, ecco. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!